come ti sei permesso scusa va tutto bene anche la missione è tutto perfetto ok e questa maglia no è che fa parte del piano se no non ti preoccupare sicuro sicura vuoi un cioccolatino ok vediamo sono buoni da 9 te ne do uno dopo va bene comunque a parte gli scherzi davvero sappi che fra noi due non c'è veramente nessuno siamo io e te contro tutti aspetta che è successo ho lasciato i walkie talkie da leonardo no bisogna riprenderlo non è che attivo per caso vero no non lo so l'ho lasciato lì andiamo no piano però bisogna prenderlo per forza dove sarà charlotte cosa cosa ci fai qua tommaso tommaso mi ha deluso mi ha portato qui e ho trovato emma nella nell'appartamento perché sei così bianco non sono stato molto bene in questi giorni cosa hai fatto alla gamba niente lascia fare senti vieni con me tomaso mi ha lasciato da sola qua è venuta emma senti ma cosa sono questi cioè vedo che ce l'hai anche a cosa servono sono dei walkie talkie e non so perché sono qua non capisco io e tomaso eravamo uniti eravamo fidanzati stavamo insieme arriva mi porta qua con tutta la fretta del mondo e mi lascia nell'appartamento di tua cugina dove non c'era tua cugina ma c'era Emma. Emma? Sì e mi dice se non vuoi tornare nel paese cambia ti sei troppo scoperta io mi sono cambiata mi ha dato una gomma e mi sono addormentata e poi ho trovato le altre cose. Non capisco cosa sia cambiato tra me e Tommaso, tu ne sei qualcosa. Io l'ho visto ieri però non c'è niente davvero Leonardo. Comunque forse è meglio così. Lo spero. Chi è? Non lo so, l'hai sentito? Nascondiamoci. Di qua. Come no? Andiamo di qua. Qua dentro sì, qua. Sei sicuro che? Sì, entra. Leonardo ma sei sparito? Dove sei? Leonardo dove sei? È la voce di Eva. Leonardo ho lasciato una cosa a casa tua e ne ho bisogno. Leonardo dove sei? Forse è andata a riprendere walkie-talkie. Sì è vero lo ha lasciato qua. Leonardo dove sei? Speriamo non ci trovi. Senti ma forse non è meglio se usciamo e così ci parliamo? No, bisogna ancora vedere che cosa fa e così scopriamo meglio cosa sta succedendo ok? Va bene. Sono qui a capire meglio. E non c'è. Come non c'è? Non c'è. E dov'è? Non lo so, è sparito, non lo trovo. E quindi? Vabbè dai, vieni qui. Ma come vieni qui? Ma c'è il walkie-talkie? Il walkie-talkie non lo potevi lasciare lì. Ma a cosa serve questo walkie-talkie? Non te lo posso dire però... Vuoi un cioccolatino? Dai, mettiti giù. Ti piacciono i cioccolatini? Non te lo posso dire però te mangia che ti fa bene. Vieni. Solo uno? Sì, se no ti mi fai troppe domande poi. Oh, si sta bene eh. Però sempre queste missioni, missioni. Cinque minuti fa mi avevi detto che eravamo soltanto io e te. E poi queste missioni, sempre. Non so, ma mi stai facendo troppe domande. Per favore, bisogna andare via. È anche casa di Leonardo, per favore. Ma che mi importa? Dammi altri cioccolatini. Se te li do però dopo andiamo via. Va bene. Ti do quelli che rimangono. Però non fai più domande né niente. Va bene? Ok, io provesso. Ma quanti ne mangi? Adesso andiamo. Dai, muoviti per favore. Ehi ragazzi. Hai fatto quello che dovevi fare? Shhh. Te lo spiego dopo. Ah. Andiamo. Ok. Ok. Prendiamo il giubbaccio. Aspetta. Ah, bene. Quindi io non c'era se la menteva, ma ci eravate anche voi due? Ciao. Guarda un po' chi si vede, no? La nuova fidanzata di Tommaso. Aspetta, ma quant'è che noi due ci siamo lasciati? Ah, giusto. Quando mi hai lasciato da sola con Emma a farmi addormentare. Se lo dico dopo, aspetta un attimo. Senti, Charlottina. Lo sai? Ancora non l'hai capito che Tommaso sta con te per finta? Sta con me per finta? Come ci sei permesso, scusa? Voi, eravate dei minuti qua per prendere questi, se non mi sbaglio? Giochiamo. Facciamo un concorso. È proprio un punto d'alto per un concorso, eh? I maschi qua, venite. Veloce, sedetevi. Ok, voi venite qua. E da qui inizia la gara. Che gara. Ok, questa gara consiste nel fare i versi degli animali. Voi siete i partecipanti e loro sono i giudici, loro voteranno. Ok, quindi... Guardate qua, eh? Troviamo tutti i voti e voi potete votare. Ok. Ora, quando inizieranno, voi guardate attentamente per poi votare. Dopo che loro avranno visto dei vizi, avrete il voto. Va bene? Va bene. Siete tutti d'accordo? Sì, certo. Sapete che se non siete d'accordo, tornate in quel paese, visto che mi avete rotto anche il bastone. Tutti d'accordo. Sì, super. Ok, ok. Mettetevi queste e ricordatevi che chi vincerà starà con Tommaso, per decisione mia. Perché scusa proprio con Tommaso, abbiamo già risolto, no? Ho deciso io, punto e basta. Mettetevi le ali. Il primo animale è l'Aquila. Potete iniziare. Va bene così? Non devo votare io, devono votare loro. Fantastica, bravi. Grazie. Sì, sì, stupendo. Benissimo, ora votate Charlotte. Date un voto a Charlotte. Questo è il mio voto. Ok, ora votate Eva. Dove? Ok, questa mani è stata vinta da Eva. Ok, ora facciamo un altro animale. I cani. I cani. Appagliate anche. Woof, woof, woof. Te sei molto brava a fare il cane, non credi? Sì, ma sono sicurissima che te lo sai fare meglio. Non credo proprio. Dai, basta, continuate. Wow, woof, 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 woof. Va bene? Sì. Ora votate Charlotte. Vediamo. Quattro, due, tre. Ok, ora date un voto a Eva. Uno, due, tre. È un pareggio. È un pareggio, ma facciamo un altro animale ora per fare così un'altra manche. Io direi di fare il gatto, molto semplice. E mia bollate anche. Su, veloce. Miau, 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 miau. Continuati, dai. Miau, 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 miau. Ok. Ok, ora votate. Votate prima Charlotte. Beh, non siamo andati molto bene con questo gatto, quindi questo è il mio voto. Quattro, due. Ok, ora votate Eva. Somma. Ok, ora io canto e voi dovete ballare su un gatto. Bitch. Courbet, Courbet. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ok, ora dovete comunque votarle. Votate Charlotte. Due. Sette. Ok, votate Eva ora. Un mano. Scusa, ok. Ho vinto? Io. Sì, però infranno anche le altre mani ce l'ha vinta Eva. Ok, io ho deciso che ha sia ballato e sia ammettato meglio gli animali Eva. Quindi sarà Eva a stare con Tommaso. Benissimo, tanto non era una novità, no? Giusto Tommaso? Beh, grazie per lo schiaffo qua. Di niente. Anche se non me l'aspettavo davvero da te. E' deluso. Ok. Mai, mai stai insieme a Tommaso? Vieni. Cosa? Lascia prendere.